Medicina ufficiale e alternativa confronto, questo è un tema suggestivo, un'iniziativa che è organizzata dalla ONLUS Crescere il Domane ma che è anche patrocinata dall'Ordine dei Medici della provincia di La Spezia. Questa iniziativa è una delle numerose iniziative che abbiamo svolto dal 2012 quando è nata questa associazione che assiste i malati oncologici. Le nostre conferenze, questa è la quinta, sono sempre su un tema attinente al mondo dell'oncologia per l'assistenza informativa ai malati su tutti quelli che sono i vari aspetti organizzativi e anche di vita del malato e soprattutto della sua famiglia. Abbiamo fatto anche una conferenza, per esempio l'anno scorso, sull'ambiente spezzino dal quale sono emerse cose molto interessanti e che forse la popolazione non sempre conosceva. Questa invece riguarda un tema un pochino più ampio e cioè il confronto, non c'è nessuno scontro, il confronto tra quella che è la medicina ufficiale che si sta evolvendo rapidamente e quelle che sono anche medicine alternative, terapie alternative, alternative ma intendiamo serie in questo senso. Forse la novità in realtà è quella di confrontarci sul diavolo dell'acqua santa, nel senso che un vecchio medico diceva che tutto quello che sembra vero può essere anche falso. Io quindi credo che con un pensiero obiettivo, scientifico, laico, bisogna avere il coraggio di parlare a 360 gradi senza pregiudizi un po' su tutto. Se è vero che è stimato che il 15% degli italiani ricorrono alla medicina alternativa e non a quella convenzionale, quella ufficiale diciamo anche nel campo dell'oncologia, anche quindi tra i malati oncologici, io credo che di questo bisogna avere il coraggio di parlare nel modo più obiettivo possibile. Per cui abbiamo invitato non solo persone che utilizzano la medicina ufficiale, ma anche persone che utilizzano altre forme di medicina, come per esempio l'omeopatia, l'agopuntura, la fitoterapia, la nutrizionistica, eccetera. Poi possiamo confrontarci anche con altre persone, medici, popolazione, eccetera, che verranno a sentire questa conferenza che quindi io credo che sarà molto interessante.